Cia a tutti! Sono Angelo Valente nato a Genzano di Lucania il 25 marzo 1922, sono stato direttore del circolo didattico di via Crocifisso 15 in Milano. Per la mia attività scolastica, mi è stato conferito il diploma di benemerenza di uno classe dal Ministero della Pubblica Istruzione e la medaglia d'oro dal Comune di Milano. Ho avuto una lunga esperienza politica, sindacale, amministrativa, culturale ed assistenziale, ho organizzato e diretto corsi di cultura, ho fatto parte di commissioni esaminatrici in concorsi ministeriali, ho collaborato a corsi di aggiornamento e di formazione, ho tenuto conferenze pedagogiche e letterarie. Ho pubblicato una grammatica in versi B, bisbigli poesie per i piccoli, e ho collaborato a riviste culturali e professionali scrivendo articoli, recessioni e poesie. Il dramma Balcalore dei Sacri Ideali e la Farsa Vinsecula Seculorum sono stati rappresentati in teatro. Accanto ad un buon numero di poesie in lingua, inedite, mi sono cimentato anche nella poesia in vernacolo Terra Meie. Ciao a tutti! Sono l'avatar di Canio Chierubino, dato che l'autore di questo video non possiede le sue foto, nato a Genzano di Lucania il 29 maggio 1891, morto durante la prima guerra mondiale il 29 maggio 1918. Ho scritto il libro, Il testamento di Aquilina Sancia, che racchiude in sé le vicende storiche che hanno interessato le terre di dominio spagnolo nell'area dell'Alto Bradano e, in particolare, di Genzano di Lucania, e in questo libro, è dunque fornito una preziosa ricostruzione del periodo storico che va dal XIII al XVI secolo. Ciao a tutti! Sono Don Michele di Palma, sono nato a Genzano di Lucania il 23 gennaio 1921, sono stato parroco del paese, durante la mia attività pastorale ho ideato e redatto il bollettino parrocchiale mensile di Santa Maria della Platea, il rovettiere, un agile foglio di informazione a stampa, due sole facciate, formato a tre, svelto ed essenziale, la pagina mossa da qualche foto o da angoli di poesie. Parlava facile, di fatti di chiesa, della vita della parrocchia, di cristianesimo e civiltà, di elezioni amministrative e di visita pastorale, di azione cattolica e della parola dell'arcivescovo, suggeriva orientamenti di vita spirituale e sociale, di catechesi e di vangelo, di mortale e di educazione, schizzava qua e l'alcuni rapidi profili o bozzetti di personaggi lucani o di santi e di storia locale. Ciao a tutti! Sono Don Rocco Scazzariello nato a Genzano di Lucania, Potenza, nel 1923. Ordinato sacerdote nel 1948, ho svolto il mio apostolato tra la gente umile e laboriosa dei campi, in veste di cappellano degli assegnatari dell'ente sviluppo di Puglia e Basilicata, oggi Esab, ente sviluppo agricolo di Basilicata. Come insegnante di religione e di educazione musicale nelle scuole statali, mi dono distinto nella formazione spirituale e culturale dei giovani, in particolare di quelli meno ambienti. Mi sono reso promotore di una nobile iniziativa socioeducativa, quella di aver costituito a Genzano il complesso bandistico Santa Cecilia, da me stesso diretto, che mi ha meritato un attestato di benemerenza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che mi autorizza a esercitare la professione di maestro, direttore di banda. Dopo un lungo e paziente lavoro di studio e di ricerche, ho condotto a termine incanti popolari e altri testi di tradizione orale raccolti a Genzano di Lucania, che mi ha tenuto impegnato per otre 15 anni e che certamente darà lustro alla ridente cittadina di Genzano. Buongiorno a tutti. Sono Ettore Lorito, nato a Genzano di Lucania il 1 dicembre 1885, maestro della scuola elementare di Genzano di Lucania, nominato il 19 novembre 1908, deceduto a Bari il 1 marzo 1981. Ho scritto due libri Genzano di Basilicata, cronografia e sotto l'arco di Eros. Il romanzo sotto l'arco di Eros vi racconto una storia, probabilmente accaduta, descrivendovi gli usi e costumi di Genzano alla fine delle 800, e nel libro Genzano di Basilicata, cronografia, è il libro di storia di Genzano di Lucania. Buongiorno a tutti. Sono l'avatar di Giuseppe Lepore, considerato che l'autore di questo video non possiede alcuna mia foto, nato a Genzano di Lucania il 14 marzo 1934, e nonostante la mia tre gradi elementare ho scritto tre libri. Il bracciante camionista. 50 di cronistoria locale, notizie storiche di Genzano di Lucania ed intorni, ed infine un favole, rime e vecchi racconti popolari. Ciao a tutti. Sono Pasquale Albani, sono nato a Genzano di Lucania il 12 agosto 1875, sono uno dei pochi poeti genzanesi, ho scritto un volume intitolato Canti tristi, formato da 71 componimenti poetici, in gran parte parlano di amore, ma non mancano liriche di argomento sociale, delicate assai quelle che si riferiscono al paese nativo e dalla madre. Il volume si apre con Tristitia. Questa lirica dà nello stesso tempo il tono dominante del mio spirito e la misura del valore della mia creazione, è l'espressione di una concezione pessimistica della vita, nell'individuo, nella società e nelle stesse tombe non c'è pace, ma unica ed insistente si leva la voce del dolore. Sono morto a Genzano di Lucania il 28 giugno 1897. Ciao a tutti! Sono Pasquale Albani, sono nato a Genzano di Lucania il 12 agosto 1875, sono uno dei pochi poeti genzanesi, ho scritto un volume intitolato Canti tristi, formato da 71 componimenti poetici, in gran parte parlano di amore, ma non mancano liriche di argomento sociale, delicate assai quelle che si riferiscono al paese nativo e dalla madre. Il volume si apre con Tristitia. Questa lirica dà nello stesso tempo il tono dominante del mio spirito e la misura del valore della mia creazione, è l'espressione di una concezione pessimistica della vita, nell'individuo, nella società e nelle stesse tombe non c'è pace, ma unica ed insistente si leva la voce del dolore. Sono morto a Genzano di Lucania il 28 giugno 1897. Buongiorno a tutti. Sono Ettore Lorito, nato a Genzano di Lucania il primo dicembre 1885, maestro della scuola elementare di Genzano di Lucania, nominato il 19 novembre 1908, deceduto a Bari il primo marzo 1981. Ho scritto due libri Genzano di Basilicata, cronografia Peg sotto l'arco di Eros. Il romanzo sotto l'arco di Eros vi racconto una storia, probabilmente accaduta, descrivendovi gli usi e costumi di Genzano alla fine delle 800, e nel libro Genzano di Basilicata, cronografia, è il libro di storia di Genzano di Lucania. Ciao a tutti. Sono l'avatar di Canio Chierubino, dato che l'autore di questo video non possiede le sue foto, nato a Genzano di Lucania il 29 maggio 1891, morto durante la prima guerra mondiale il 29 maggio 1918. Ho scritto il libro, Il testamento di Aquilina Sancia, che racchiude in sé le vicende storiche che hanno interessato le terre di dominio spagnolo nell'area dell'Alto Bradano e, in particolare, di Genzano di Lucania, e in questo libro, è dunque fornito una preziosa ricostruzione del periodo storico che va dal XIII al XVI secolo. Ciao a tutti. Sono Severino Gargano nato a Genzano di Lucania Potenza il 9 dicembre 1929, vivo a Milano dal 1953, ho partecipato a molti concorsi di poesia e narrativa ottenendo significativi riconoscimenti. Ho fatto parte da diversi anni del consiglio di amministrazione di alcuni circoli culturali, tra i quali Leperini di Milano, che già nel 1981 ebbe a pubblicarmi il primo lavoro di narrativa dal Bradano al Ticino. Nel 1985 ho pubblicato il romanzo Una finestra sulla vita, edito dal Centro Studi della Famiglia Lucana di Milano, ottenendo lusinghieri consensi di critica e di pubblico. Nel 1988 ho pubblicato la raccolta di poesie e l'agonia dei poveri, una sorta di diario in versi di prevalente carattere sociale. Nel 1991 ho pubblicato la silloge di poesie e testimonianze nel tempo che vuole essere la naturale e continuità di una ricerca poetica protesa a testimoniare la nostra turbolenta epoca contemporanea. Nel 1995 ho pubblicato il romanzo Ritratti d'Umane Vicende. Nel 2000 ho pubblicato il romanzo Lampi d'Amore e di Umanità che tende ad evidenziare le trasformazioni repentine e i valori familiari che spesso producono tragedie fra le giovani generazioni. Cia a tutti! Sono Angelo Valente nato a Genzano di Lucania Il 25 marzo 1922, sono stato direttore del circolo didattico di Via Crocifisso 15 in Milano. Per la mia attività scolastica, mi è stato conferito il diploma di benemerenza di uno classe dal Ministero della Pubblica Istruzione e la medaglia d'oro dal Comune di Milano. Ho avuto una lunga esperienza politica, sindacale, amministrativa, culturale ed assistenziale, ho organizzato e diretto corsi di cultura, ho fatto parte di commissioni esaminatrici in concorsi ministeriali, ho collaborato a corsi di aggiornamento e di formazione, ho tenuto conferenze pedagogiche e letterarie. Ho pubblicato una grammatica in versi B, bisbigli, poesie per i piccoli e ho collaborato a riviste culturali e professionali scrivendo articoli, recessioni e poesie. Il dramma Balcalore dei Sacri Ideali e la farsa in secula seculorum sono stati rappresentati in teatro. Accanto ad un buon numero di poesie in lingua, inedite, mi sono cimentato anche nella poesia in vernacolo Terra Meie. Buongiorno a tutti. Sono l'avatar di Giuseppe Lepore, considerato che l'autore di questo video non possiede alcuna mia foto, nato a Genzano di Lucania il 14 marzo 1934, e nonostante la mia tre gradi elementare ho scritto tre libri, Il bracciante camionista, 50 di cronistoria locale, notizie storiche di Genzano di Lucania ed intorni, ed infine un favole, rime e vecchi racconti popolari, u. Ciao a tutti. Sono Don Michele di Palma, sono nato a Genzano di Lucania il 23 gennaio 1921, sono stato parroco del paese, durante la mia attività pastorale ho ideato e redatto il bollettino parrocchiale mensile di Santa Maria della Platea, il rovettiere, un agile foglio di informazione a stampa, due sole facciate, formato a tre, svelto ed essenziale, la pagina mossa da qualche foto o da angoli di poesie. Parlava facile, di fatti di chiesa, della vita della parrocchia, di cristianesimo e civiltà, di elezioni amministrative e di visita pastorale, di azione cattolica e della parola dell'arcivescovo, suggeriva orientamenti di vita spirituale e sociale, di catechesi e di vangelo, di mortale e di educazione, schizzava qua e l'alcuni rapidi profili o bozzetti di personaggi lucani o di santi e di storia locale. Ciao a tutti. Sono Don Rocco Scazzariello nato a Genzano di Lucania, Potenza, nel 1923. Ordinato sacerdote nel 1948, ho svolto il mio apostolato tra la gente umile e laboriosa dei campi, in veste di capellano degli assegnatari dell'ente sviluppo di Puglia e Basilicata, oggi ESAB, ente sviluppo agricolo di Basilicata. Come insegnante di religione e di educazione musicale nelle scuole statali, mi dono distinto nella formazione spirituale e culturale dei giovani, in particolare di quelli meno ambienti. Mi sono reso promotore di una nobile iniziativa socioeducativa, quella di aver costituito a Genzano il complesso bandistico Santa Cecilia, da me stesso diretto, che mi ha meritato un attestato di benemerenza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che mi autorizza a esercitare la professione di maestro, direttore di banda. Dopo un lungo e paziente lavoro di studio e di ricerche, ho condotto a termine incanti popolari e altri testi di tradizione orale raccolti a Genzano di Lucania, che mi ha tenuto impegnato per otre 15 anni e che certamente darà lustro alla ridente cittadina di Genzano. Ciao a tutti. Sono Severino Gargano nato a Genzano di Lucania Potenza il 9 dicembre 1929, vivo a Milano dal 1953, ho partecipato a molti concorsi di poesia e narrativa ottenendo significativi riconoscimenti. Ho fatto parte da diversi anni del consiglio di amministrazione di alcuni circoli culturali, tra i quali Leperini di Milano, che già nel 1981 ebbe a pubblicarmi il primo lavoro di narrativa dal Bradano al Ticino. Nel 1985 ho pubblicato il romanzo Una finestra sulla vita, edito dal Centro Studi della Famiglia Lucana di Milano, ottenendo lusinghieri consensi di critica e di pubblico. Nel 1988 ho pubblicato La raccolta di poesie e l'agonia dei poveri, una sorta di diario in versi di prevalente carattere sociale. Nel 1991 ho pubblicato La silloge di poesie e testimonianze nel tempo che vuole essere la naturale continuità di una ricerca poetica protesa a testimoniare la nostra turbolenta epoca contemporanea. Nel 1995 ho pubblicato il romanzo Ritratti d'Umane Vicende. Nel 2000 ho pubblicato il romanzo Lampi d'Amore e di Umanità che tende ad evidenziare le trasformazioni repentine e i valori familiari che spesso producono tragedie fra le giovani generazioni.